Scorrendo degli articoli scientifici rimango basito di fronte ad esempio a dei titoli come questo. Come l'interno di un buco nero è segretamente all'esterno. È un paradosso, o no? Trovate sempre i link degli articoli nella descrizione dei video. E l'altra cosa interessante è che oggi è il 30 agosto 2022 e qui la data è del 1 settembre 2022. Ma leggiamo questa intervista del 19 agosto 2022 dal titolo Hawking, Un paradosso e un mistero del buco nero risolto? Dove questa signora, Clara Moscovitz, ha una conversazione con l'intervistatrice nell'audio dal titolo 60 secondi di scienze. È interessante sapere cosa ci raccontano gli astrofisici sulla cosmologia perché qui ad esempio dice Siamo qui per parlare del paradosso dell'informazione del buco nero che è stato un problema in fisica per molto tempo. Fondamentalmente i buchi neri sembrano infrangere le regole della fisica, E parte del motivo è perché dobbiamo usare due diverse teorie per descriverle. E le due teorie non vanno d'accordo. Avete capito bene? Sì, si parla di teorie ma non di prove. E di due teorie che si insegnano a scuola ma che non vanno d'accordo. Ma andiamo avanti. Da un lato abbiamo la meccanica quantistica che descrive il mondo degli atomi e delle particelle molto piccole. D'altra parte abbiamo la relatività generale che descrive cose che sono molto grandi, molto massicce, molto ampie e per la maggior parte delle cose nel mondo non richiedono entrambe le teorie. O sono grandi o piccoli buchi neri, ma sono entrambi buchi neri, le cose più dense dell'intero universo. E occupano pochissimo spazio ma hanno tanta massa. Abbiamo veramente bisogno di entrambe le teorie. Eppure quando provi a combinare meccanica quantistica e relatività generale, tutto impazzisce. Cioè, fatemi capire, per far funzionare questo c'è assolutamente bisogno delle due teorie? Ma siete fuori di testa, gente? Andiamo avanti. L'intervistatrice chiede, come possono non essere applicabili le due regole della fisica? Vediamo solo l'inizio della risposta. Ognuna funziona perfettamente nel proprio regno. Gente, noi viviamo solo in questo regno, quindi? Ma passiamo all'altra domanda. In che modo esattamente non funzionano insieme? Risposta. Fondamentalmente quando provi a combinarle le equazioni si frantumano, danno risultati infiniti, semplicemente non producono risposte o calcoli con cui poter lavorare. E questo è interessante. Ed è un segnale che qualcosa manca, qualcosa che non capiamo completamente. E la cosa che non comprendiamo completamente è la gravità. Che cosa si capisce da questo? Che le teorie non vanno bene e quando non funziona qualcosa vorrebbero liberarsene? Ma non possono. Infatti hanno inventato la materia oscura e molto altro. Quindi la meccanica quantistica è stata fatta per funzionare molto bene con ogni altra teoria e ogni altra forza della natura. La meccanica quantistica può descrivere l'elettromagnetismo e la forza forte e debole che agisce all'interno degli atomi ma non può descrivere la gravità. Eppure con i buchi neri c'è qualcosa di minuscolo nonostante la gravità è superpotente. E quando proviamo a descrivere cosa sta succedendo fra loro non possiamo, non abbiamo una teoria che ci dica su come funziona un buco nero e veramente non capiamo cosa sta succedendo al loro interno. Ma va, non hanno una teoria che gli dica come funziona un buco nero. E ancora l'intervistatrice capisce che c'è un problema con le loro equazioni e chiede da quanto sappiamo di questo paradosso? E la Clara Moscovitz risponde. Questo paradosso risale a 50 anni fa e la storia inizia fondamentalmente con Stephen Hawking nel 1974. Ha scoperto che i buchi neri fuoriescono, hanno delle perdite, emettono radiazioni nel tempo, particella dopo particella, diventano sempre più piccoli, sempre più piccoli e alla fine scompaiono completamente. Sembra strano ma è ok. Il problema è che se i buchi neri possono scomparire, possono scomparire anche tutte le informazioni che sono cadute dentro. E questo è un grosso problema perché infrange le leggi della fisica. Secondo la meccanica quantistica, le informazioni non possono mai essere distrutte. Si potrebbe pensare che le informazioni vengano continuamente distrutte, ad esempio quando si distrugge una fattura o si brucia un libro. Ma secondo la fisica, se si avesse una conoscenza completa del libro in anticipo su ogni atomo e ogni molecola all'interno del libro, allora si potrebbe seguire ogni atomo e ogni molecola attraverso il processo di combustione per vedere dove sono finiti e tutto andrebbe bene. Ma i buchi neri non sono così. Se un buco nero viene distrutto, è distrutto completamente, non c'è modo di accedere alle informazioni che un tempo conteneva. E non può essere, è un paradosso. Domanda Wow, ma ovviamente ci sono nuove informazioni, nuove ricerche. Ce ne può parlare? Certo. Quindi per 50 anni gli scienziati si sono interrogati su questo problema e hanno cercato di capire cosa sta succedendo e se c'è un modo per salvare le informazioni che si trovano all'interno dei buchi neri. Adesso capirete perché sono arrivato a tradurvi questo articolo, perché è veramente ridicolo e svela uno degli argomenti della scienza. Alla fine, negli ultimi anni, hanno avuto una svolta importante. La svolta coinvolge diversi concetti molto sbalorditivi. Uno di questi è il wormhole, che è un ponte nello spazio-tempo. Queste sono scorciatoie nello spazio-tempo che collegano due punti molto distanti. E l'altro ha a che fare con le strane regole della meccanica quantistica. Secondo la meccanica quantistica, tutto ciò che può accadere succede. Ma siete seri? Quindi una particella, per esempio, non si limita a viaggiare lungo una linea retta dal punto A al punto B. Invece prende tutti i possibili percorsi che potrebbero collegare il punto A e il punto B. Gira verso l'alto, gira verso il basso, si attorciglia intorno prima di arrivare al punto B. E tutte queste cose accadono. Ebbene, quando applichi questo concetto ai buchi neri, significa che devi considerare tutte le possibili disposizioni dello spazio, del tempo all'interno dei buchi neri. Tutti sono simultaneamente reali. Oh certo, io credo fermamente questo. Penso che queste tizie non hanno alcun collegamento con la realtà. E una delle possibili collocazioni dello spazio-tempo è un wormhole. Certo, come no? È una delle possibilità. L'hanno appena costruita. È una delle possibilità. Quindi queste sono le strane scorciatoie teoriche nello spazio e nel tempo. E c'è la possibilità che l'interno di un buco nero sia collegato all'interno di un altro buco nero attraverso un wormhole. Va colta questa possibilità. Una possibilità tenendo conto che i fisici l'hanno scoperta di recente. Cioè, hanno inventato una possibilità. Pensateci. E quando hanno fatto tutto questo, hanno cambiato le equazioni usate per descrivere l'entropia nei buchi neri. Fondamentalmente una descrizione della quantità di disordine ha dato una risposta completamente diversa. E hanno indicato una soluzione per un modo in cui le informazioni potessero sfuggire ai buchi neri. Siete ancora tutti qui? Bene, allora ascoltate il resto. E questo si chiama isola. Ora, di tutte le cose strane di cui abbiamo già parlato, questa è la più strana. Questa è l'idea che nel profondo dei buchi neri ci sia una regione speciale chiamata isola. Sì, avete capito bene. Ha detto è l'idea. Ma proseguiamo. E questa regione è sia all'interno del buco nero che all'esterno del buco nero allo stesso tempo. E le informazioni che si trovano all'interno dell'isola, dal momento che sono all'interno e all'esterno, possono sfuggire alla distruzione del buco nero e non vengono mai veramente distrutte, anche se il buco nero evapora completamente e scompare. E questo sembra risolvere il paradosso. Sì, ha detto esattamente sembra. Ovvero, non ha fornito alcuna risposta su come funziona il paradosso. Ha dovuto inventarsi una regione speciale chiamata isola all'interno del buco nero. Come? L'hanno vista? E questa regione è sia all'interno che all'esterno del buco nero nello stesso momento. E dal momento che l'informazione si trova sia all'interno che all'esterno del buco nero, può sfuggire alla distruzione del buco nero. E non verrà mai distrutta veramente, anche se il buco nero evapora completamente e sparisce. E questo sembra risolvere il paradosso. Andiamo avanti. Quindi ci sono ancora molte domande a cui rispondere. Tutto non è del tutto risolto. E non tutti i fisici sono d'accordo sul fatto che questa sia la soluzione. Come vedete, sono tutte solo immondizie teoriche, che non hanno senso. Quello che possiamo vedere è guardarci negli occhi. E di avere la fattezza dell'uomo che accetta quello che vede. Perché quello che ci si aspetta è prendere coscienza. E questo, ironicamente, non è lontano dalla verità. Credete nella fede? Io no. Perché non mi piace l'idea di non poter controllare la mia vita. Studiate pure le teorie, mi raccomando. È l'unico modo per farvi friggere il cervello e sfuggire dalla realtà per cadere dentro all'illusione dell'incantesimo gestito da I.A. Grazie. 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 Grazie.